Promobol Sanitas porta a casa la seconda vittoria consecutiva contro la Pro Perzi Volley di Lodi nella sedicesima giornata di ritorno di Serie C-FIP valida per il girone D. Una vittoria arrivata al quarto set con parziali che chiariscono la forza in campo messa da Promobol Sanitas. Nel primo set Taramelli schiera Di Giulio, posta Salvetti, Marinone e Miliojkovic come laterali e Basalari e Piantoni al centro con Zanetti libero. Parte male la ricezione delle Fleresi subito sotto 4-1. Zanetti viene subito sostituita da Bertoletti e Miliojkovic da Turina. Le Bresciane faticano a sbloccarsi e continuano a commettere errori o a restituire free ball alle Lodigiane. Nemmeno il doppio cambio Giacomini per Di Giulio e Papa per Salvetti sembra risollevare le sorti delle Tigri che sul 10-5 continuano a soffrire a partire dal fondamentale della ricezione. Da segnalare infatti il continuo avvicendarsi dei due liberi Zanetti e Bertoletti. Con Piantoni al servizio Promobol innesta qualche azione interessante e si avvicina sull'11-8. La squadra macina ancora bel gioco ma si lascia sfuggire delle occasioni di far punto permettendo un altro allungo delle ragazze del Properzi sul 15-11. Il pallonetto di prima intenzione di Papa pare a restituire fiducia alle Bresciane che si portano sul 15-13 ma una serie di successivi errori permette a Lodi di fare punti e portarsi sul 18-13. Papa al servizio prova a mettere in difficoltà la ricezione di Lodi costringendo anche il coach locale al time-out sul 18-16. Un buon primo tempo di Piantoni segna il 17esimo punto in casa Flero che si porta sul 18-17. Il pareggio non arriva a causa di un errore al servizio fuori di pochissimo. La squadra fatica a sbloccarsi da lì con le locali che si portano sul 23-19. Il finale di set è costellato da errori al servizio da parte di entrambe le formazioni con Promobol però che si avvicina nuovamente sul 24-22 e secondo time-out di Lodi. Nonostante gli sforzi però Lodi chiude il set 25-22. All'inizio del secondo set Promobol riparte con Papa opposta a Giacomini, Marinoni e Miliojkovic come bande, Basalari e Piantoni al centro e Bertoletti libero. Le Tigri partono bene sul 2-7, aggressive già dal servizio in particolare con Piantoni. Composta in difesa è attente a ricostruire le free ball offerte dalle locali. Ancora tanti errori in battuta da parte di entrambe le squadre portano il punteggio sul 5-9 per le fileresi. Lodi si avvicina sull'8-10 ma poi sbaglia. Con grande coraggio Miliojkovic attacca una palla vagante in posto 6 e porta il punteggio sul 9-11. Ma Lodi si risolleva agguantando il pareggio prima sull'11-11 e poi il sorpasso con il 13-11. Bertoletti lascia di nuovo spazio a Zanetti e Turina sostituisce Marinoni al servizio. Torna la parità sul 13-13 e Promobol riprende a condurre la gara grazie anche all'efficace servizio di Turina sul 19-14. Properzi continua a soffrire l'aggressività delle Tigri che continuano a mettere in mostra bel gioco fino al 17-25 finale. All'inizio del terzo set viene confermata la precedente formazione per Promobol che parte ancora bene sull'1-4. Penetrante al servizio è molto incisiva in attacco. La striscia positiva prosegue da segnalare un bel primo tempo di Basalari che porta la squadra sul 3-8. Lodi però non ci sta e si rimette in partita accorciando le distanze portandosi sul 6-8. Ancora Basalari con un complice Papa naturalmente sorprende muro e difesa locali e con un altro primo tempo. Sul 6-10 Taramelli reinserisce Marinoni al posto di Turina e subito Elisa va a segno. Un altro attacco coraggioso di Miliojkovic dalla seconda linea consegna a Promobol il tredicesimo punto. Il buon momento delle Tigri prosegue col punteggio di 7-17 con la messa in atto di azioni offensive tatticamente ben costruite dal capitano Rossana Papa coinvolgendo tutti gli attaccanti a sua disposizione. Le Lodigiane tentano di tornare in partita sull'11-19 ma le Fleresi sono più concrete e mettono in saccoccia punti su punti portandosi sul 12-22. Sul 13-22 Taramelli inneste il solito doppio cambio con Di Giulio al posto di Giacomini e Salvetti al posto di Papa e così il set scivola verso la fine sul 13-25. Il quarto set inizia in equilibrio con le due formazioni che si alterano nella conduzione del parziale. Promobol ricomincia a soffrire un po' in ricezione e Taramelli richiama la panchina alle sue atlete per qualche indicazione tecnica sul 5-3 per le locali. Ancora con Piantoni in battuta Promobol cresce mettendo in difficoltà la ricezione Lodigiana fino all'8-6. Con Giacomini le Bresciane agguantano il pareggio sul 9-9 e la gara torna in equilibrio. Nel frattempo Marinoni torna in campo e Promobol riprende il comando del set con il punteggio di 11-13. La situazione prosegue in parità fino al 17-17 quando con Giacomini al servizio Promobol mette la freccia in filo un bel break positivo portandosi sul 18-23 che permette poi la vittoria del set con il punteggio di 18-25 e della gara che finisce 1-3 per le fileresi.